Non è la prima volta in verità che in questo paese si prova a violentare, a stuprare la nostra Costituzione e però questa volta pare che abbiano superato il segno. Sì, questa volta hanno superato loro stessi e devo dire che non si è mai visto nella storia della democrazia di questo paese una scelta come quella che è stata fatta, che questo governo ha fatto. Prima decide di presentare al Parlamento l'abolizione dei voucher e qualche giorno dopo, credo 30-35 giorni dopo, quindi fare in modo che il popolo, che i cittadini non esprimano il loro giudizio, il loro pensiero e esattamente 30 giorni dopo decidono di reintrodurre una normativa che riguarda i voucher, anche se si chiamano in un altro modo. Io penso che la prima questione che si è consumata in questo paese è uno strappo alla democrazia. Penso che questo sia un atto molto grave, al quale come CGL ovviamente chiameremo e stiamo lavorando in questa direzione a partire dal Presidente della Repubblica, perché è il garante della Costituzione italiana e poi ci rivolgeremo alla Suprema Corte che è quell'organismo che ha determinato il fatto che non si andasse a votare e successivamente alla Corte Costituzionale, perché pensiamo che la cosa che è accaduta è una cosa gravissima. Su questo ovviamente noi siamo molto determinati, perché prima ancora della reintroduzione di uno strumento che è uguale a quello precedente, per noi c'è davvero un problema di democrazia. E come si sta lavorando in questi giorni, noi abbiamo già organizzato, saremo in piazza il 17 giugno e pensiamo a una grande manifestazione di popolo, non solo della CGL, è una manifestazione che noi abbiamo organizzato ma che vogliamo diventi una manifestazione di popolo e soprattutto di quel popolo che ha a cuore il nostro paese, che ha a cuore la democrazia di questo paese. E quindi davvero insieme all'appello che chiediamo a tutti di andare sul sito della CGL e sottoscrivere e devo dire che sta crescendo in modo anche inaspettato, da pochi giorni è sul sito e già abbiamo raccolto quasi 30.000 adesioni, abbiamo importanti attestazioni, diciamo, dal mondo dell'associazionismo in questi giorni, sia individuale che proprio come associazione e vogliamo davvero che quella manifestazione sia una manifestazione contro le scelte che purtroppo in questo paese si ripetono, che sono da tempo, diciamo così, e questa in modo particolare una frattura alla democrazia. Cioè noi non possiamo, dobbiamo ribellarci e io credo che ogni cittadino ha il dovere di partecipare alla manifestazione proprio in risposta a quello che il governo intende fare e a come intende mettere in discussione le regole democratiche. Non ci sono riusciti, mi viene da dire così, non ci sono riusciti con il referendum del 4 dicembre aggirano gli ostacoli in questo modo. Ecco, noi bisogna ribellarci. È una bella parola ribellarci, anche perché, come dire, ne fanno di tante e di più. Il fatto più importante è, come dire, certamente l'attacco alla democrazia, ma anche il fatto che, come dire, nulla si fa per battere la precarietà in questo paese, anzi, come dire, si fa tutto per promuoverla, per facilitarla. È di una pesantezza infinita, la crisi dicono che è passata, ma pensando alla Toscana? No, la crisi non è assolutamente passata e noi tra qualche giorno presenteremo il focus dell'economia e non ci sono segnali che vanno nella direzione giusta e della direzione soprattutto di riconoscimento di un lavoro, un lavoro di qualità. La scelta che questo governo, poi anche qua tante discussioni attorno a chi ha proposto l'emendamento e non solo, tanto c'è da dire che una manovra economica che al suo interno ha provvedimenti come questo, la dice lunga, insomma, anche rispetto alle regole, perché la manovra, appunto, la manovrina, come si usa a chiamarla, dovrebbe essere quella che aggiusta i conti di bilancio. Se poi andiamo a vedere quello che c'è dentro, insomma, credo che parli molto a come questo governo intende affrontare le questioni. e forse mi verrebbe da dire che più che una manovrina è un mille proroghe, che la dice lunga anche sul futuro prossimo che potrebbero essere quello delle elezioni. Ma al di là di questo io penso che noi abbiamo il 6 di maggio festeggiato in qualche modo il risultato, stando con i piedi per terra sempre, del fatto che si poteva, proprio partendo dagli elementi più critici del mondo del lavoro, che erano appunto i voucher e la questione degli appalti, si poteva ritornare a riparlare di un lavoro, un lavoro di qualità. Abbiamo sentito in questi giorni, che ci dicono esponenti del governo, del Parlamento, che non sono i voucher, anche se cambia poco nella sostanza, perché si chiamano con un altro nome, ma che di fatto è un contratto. Ora io vorrei sottolineare il fatto che è dal diritto romano che esiste un contratto. Il contratto è, come quello che appunto si viene a normare, è un contratto tra due persone. Quando si parla di lavoro non può essere un contratto tra due persone, ma un contratto che ha in sé dei diritti, che risponde quindi a un riferimento, cosa che anche questi, anche questo presto, come vengono chiamati, non rispondono a questo. Quindi, come dire, ancora una volta prendono in giro le persone, prendono in giro soprattutto il lavoro e i lavoratori, perché dietro al lavoro c'è una persona che svolge quel lavoro. E quindi stanno normando esattamente una prestazione e esattamente la differenza qual è? Che anziché comprarli in tabaccheria, arriva un SMS dall'Inps, cambia poco. Ma vorrei anche sottolineare il fatto che assume anche una gravità maggiore questo strumento, alla luce anche di un mondo che sta avvenendo avanti, che è quello del lavoro relativo alle piattaforme, al digitale, perché questo la dice lunga, invece che di avere un governo che si preoccupa di governare un processo e quindi di attuare, di mettere in campo iniziative legislative che tendano in qualche modo a dare dignità anche a quel lavoro che sta arrivando, si usa probabilmente quella forma per fare, la dico così, forse una sperimentazione, perché è un modo di rispondere anche a quel lavoro nelle piattaforme che poi arriverà. Ecco, io penso che anche per questo è grave l'atto che stanno compiendo attraverso appunto questo emendamento.